Oh, benvenuti signori e signore, finalmente è arrivato il prediletto giorno del nostro benamato programma, ovvero Amazon Regali di Mercoledì. Come potete sentire in sottofondo questo gelato ed elegante respiro non è l'affanno di umaniaco, è sessuale ma è benessere per promuovere il nostro attuale prodotto. Come avrete già notato, più esperti e disinibiti seguitori non siamo propriamente sul canale Amazon ma è benessere, siamo su un sito che appoggia il nostro canale. Perché il grande successo di questa rubrica e le nostre vendite sono talmente grandi e vi ringrazio che il nostro appuntamento diventerà fisso ogni mercoledì. E abbiamo, come potete vedere in vaso adesso, anche il nostro logo del nostro canale che è la merdina sorridente e ci accompagnerà per sempre. Bene, ma oggi parliamo del nostro prodotto, un prodotto innovativo, un prodotto che ogni essere umano sulla terra vivente ne ha veramente bisogno. Un prodotto che rivoluzionerà alle vostre viste come ogni prodotto che presentiamo su questo canale sono vere rivoluzioni commerciali ma andiamo a vedere il nostro prodotto. Eccoci qua ragazzi, la original Sherry DS Frutulence Filtering Underwear Come più astuti di voi avranno gioia intuito oggi parliamo di un argomento, come dire, sempre un po' nascosto. Vi sarà mai capitato in un luogo pubblico o nel posto di lavoro quando siete la sera in compagnia dei vostri amici che dovete scaricare i vostri casi anteriori e non potete farlo per paura del giudizio degli altri e quindi vi siete dovuti allontanarvi subendo gli sguardi straniti dei vostri amici o dei sconosciuti e allontanarvi facendo, come dire, finta di niente, cercando lentamente ma disperatamente un posto appartato dove poter far fluire i vostri casi interiori e a tipo la preoccupazione che qualcuno potesse spuntare all'improvviso e a guardarvi male oppure a usare qualche odore sospetto Bene ragazzi, questo non accadrà mai più nella vita perché la original Sherry DS Frutulence Filtering Underwear ha studiato un sistema perché i vostri autori non siano più causa di imbarazzo, nascondimento o allontanamento dal posto di lavoro Questa è una mutanda con filtro intedore da Frautulence Dall'offo, signore e signore, gli sgradevoli olezzi provenienti dalle parti bassi hanno le ore contate con mai sceglie sulle mutande per lui e anche per lei ovviamente perché questo è un problema mondiale che riguarda ogni essere vivente e esistente sulla terra con filtro antiodori provocati da Frautulence grazie all'oro speciale tessuto in carbonio li riescono a filtrare e a ridurre la cattiva odore permettendoti di liberarti da imbarazzanti situazioni ragazzi se la regia può mandare gentilmente video illustrativo grazie a tutti ah 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 che video interessante e molto divertente devo dire che i protagonisti di questo video hanno avuto una vita breve ma è intensa complimenti e ringraziamo The Originals Radier per questo geniale video promozionale e il prodotto come potete vedere ragazzi si vende anche da solo e grazie a queste mutande antiflautulencia e in tessuto di carbonio per la modica cifra di solamente 20 euro avete in una volta sola eliminato uno dei più grandi problemi imbarazzanti della vostra vita e per tutta la vostra vita oggi avrete la possibilità di comprare un prodotto che vi cambierà letteralmente la vostra vita basta sguardi indagatori e momenti imbarazzanti alla ricerca di posti nascosti per lasciare le vostre flottolense a testa e a manca questi giorni sono finiti quindi vi lascio con una proverbiale motto che narra lo fate senza paura ma occhio alle sgomatte in ultimo ragazzi vi lascerò un video molto esaustivo di un addirittura supereroe internazionale che proverà il nostro ASA simpatico prodotto grazie alla regia per le immagini e noi ci vediamo la prossima volta con altri prodotti che vi cambieranno la vostra vita e per fare la testa per noi credo che abbiamo trovato un professionista in realtà il professionista il proprio professionista l'unico flattolistico del mondo Mr. Methane Welcome to our studio Hello Rachel Hello Jason Great to meet you Matt Thank you for giving me the opening so to speak If you could just squeeze into these please Squeeze into them Ok They are small Oh they're small aren't they Right Ok Right They like cycling shorts almost They look really good down that to stop the air escaping Shred ease use an activated carbon panel made from charcoal treated with oxygen to absorb and trap the odors from flatulence I'm quite impressed with these because normally you get these things that look like big incontinence nappies and these are quite stylish They are very stylish Yeah I could take a date out with these on Ok I'll just have to pass Maybe not do that on a date though No no I'll try not to No no I'll try not to Jason the idea is It's supposed to stop the smell Ok Three Two One Oh Jason you're down the right end to test whether the How are we doing Jason How actually filtered There's nothing No odour whatsoever Wow No odour at all Maybe a little bit Nothing No No Oh we've done it yeah They work Yeah 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 10 out of 10 Is that what you give them I would give these 10 out of 10 definitely It can't be that Yeah You can actually get these in lady pants versions as well If you want to slap around the face from your wife or girlfriend buy her a pair of these pants Are people who got their 문�эт else? Yeah Wherever it starts You know You can look...?